All'assemblea d'istituto dell'istituto tecnico Marconi di Penne presente anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha dato notizie certe riguardante la realizzazione di un modulo provvisorio ad uso scolastico. Questa è la terza volta che ci riuniamo sul punto. La prima volta mi hanno detto la questione con la gravità della questione. Studenti, genitori, insegnanti e preside. Poi abbiamo fatto un incontro a Pescara per racimulare le risorse e poi di nuovo questo incontro per concludere il cammino. Martedì ci sarà l'atto tipico col quale noi deleghiamo al Comune la scelta del contraente per 1.100.000 euro. Rivelo anche che una parte di queste risorse mi verrà restituite al Ministero e quello che mi ridarà il Ministero per avere fatto questo investimento come regione che non ci toccava, noi lo lasciamo nel circuito delle esigenze dell'edilizia scolastica di Penne. Mi metterò un voto adeguato quando avremo determinato il ripristino del cantiere dell'originaria scuola nel centro storico di Penne. In Italia abbiamo anche il piano Casa Italia. Io farò in modo che dopo Sulmona possano entrare Penne ed Atri dal punto di vista degli investimenti straordinari di cui hanno bisogno i territori italiani. Il Presidente è intervenuto anche sulle infrastrutture viarie, in particolare sulla strada Loreto-Penne. Guardi, io qui ho i segni sulla mia carne di una incomprensione.